Antonio, ci abbiamo mandato un emissario E ci abbiamo un regalo tutti Sì, da parte del tuo nuovo amico Giuseppe Murillo Guarda qua Siamo andati da lui, ci ha detto che ti vuole bene Guarda quello che c'è scritto sul regalo che ti manda Guarda, tuo amico Giuseppe E poi Non si prometti che il prossimo scontro diretto Puoi dare uno gesto di pace? E poi Antonio Siete nuovi amici? Friends forever Che dice mister? Niente Buongiorno, ho anche portata Sorry, do you want to This is probably better to wait until after the press conference is finished If possible, please Because we've got other questions We've got a very short amount of time Yeah, of course I've just finished This is a present for you Regalo Perlei From Jose Mourinho Autografata C'è scritto Al mio amico Qua Al mio amico Antonio Is a present E viva l'amicizia Ok, thanks a lot Take a seat Because we need to carry on with the press conference Thank you No, la puoi prendere ancora Stieni la tu Tieni la, poi me la dai If you could take a seat So we can continue with the press conference That'd be great Thanks very much Turn your microphone Turn your microphone off now please Thank you Thank you